Ciao sono Lucrezia per i Gossipari TV. Lascia un mi piace, iscriviti e attiva le notifiche a campanella. Per noi è importante per mantenere vivo il canale. Studio battaglia anticipazioni seconda puntata. Metti like e iscriviti. Tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all'impianto degli embrioni congelati con l'ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le sorelle, vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extra coniugali e Anna. Difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore, Fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto è costretto a confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mettere in crisi il loro matrimonio.